Sarebbe di capire dalle presentazioni anche dal programma elettorale eletto che uno dei punti fondamentali è la sicurezza, il problema sempre all'ordine del giorno, anche nei paesi limitrofi, cosa mi può dire su questo, su altri eventuali problemi? Beh, diciamo che mentre il governo centrale toglie il tribunale, vuol togliere la compagnia dei carabinieri e porta centinaia di migliaia di clandestini sul nostro territorio, i sindaci devono arrabbattarsi per trovare la soluzione e fare in modo che le donne possano uscire di casa senza essere molestate dagli accantoni, dai delinquenti, derubate e via discorrente, questo è una cosa forte, nessuno è più padrone di uscire di casa tranquillo, neanche noi, neanche io e te. Quindi ci sono altri punti principali? Non c'è una famiglia che non ha un giovane disoccupato, quindi è ovvio che sarà l'economia il nostro pensiero fisso, anche se tu sai che i comuni, malgrado io abbia fatto quelle cose che tu hai sentito, centrale che produce 6 milioni di euro, che dà lavoro, che dà risorse economiche sul territorio, però non sono in grado di fare un'altra centrale, non basta, è finita, però cercheremo di trovare modo di incentivare fiscalmente o sgravare fiscalmente tutte quelle iniziative che vogliono stanziarsi sul territorio, anche attraverso la forza di ISM, per fare in modo che abbiano qualche incentivo, o sgravio fiscale o incentivo economico. Grazie.